Il prossimo step prevede lo stesso esercizio ma al contrario, partendo dal 4, torno indietro al 4 e poi salgo col mignolo alla corda di sovra o scendo, ripeto due volte la quarta, il salto questa volta sarà 4-4. E come vedete la mano rimane sempre in questa posizione, qualunque sia il salto, da quale dita parto e a quale dita arrivo. Il prossimo episodio Il prossimo episodio Il prossimo episodio Naturalmente mentre fate tutti questi esercizi state molto bene attenti alla mano destra, a quello che fa la mano destra che deve sempre alternare come un soldatino. Mi raccomando, molto importante.